Adesso cambia argomento e vediamo finalmente che cos'è un condensatore. Gli ho accennati più volte prima quando generavo un campo elettrico, ora vediamo che cosa sono. Un condensatore è un dispositivo che accumula cariche e ne esistono di diverse tipologie, o meglio anche forme. Abbiamo ad esempio il condensatore piano, costituito da due piastre piane separate da uno spazio vuoto. Abbiamo poi il condensatore sferico, costituito da una sfera cava contenente una piena all'interno, sempre separate da uno spazio vuoto. E infine abbiamo il condensatore cilindrico, ovvero due cilindri, uno pieno e uno cavo concentrici, sempre separate da uno spazio vuoto. Questi sono i condensatori più comuni. Adesso rivedremo un po' in dettaglio in cosa differiscono. La funzione principale dei condensatori è accumulare carica e mantenerla finché lo spazio vuoto che li separa riesca a evitare un passaggio di carica. Cominciamo a vedere in dettaglio il condensatore piano. Alle due estremità di un circuito con differenza di potenziale, perché vi ho detto già prima che la differenza di potenziale è il motore in un circuito che fa circolare gli elettroni, quindi la corrente elettrica, vengono applicate due piastre piane. Su una piastra si accumulano gli elettroni della corrente caricandola negativamente. Di contro l'altra piastra acquisisce una carica positiva. Il dispositivo accumula le cariche fino a quando la differenza di potenziale tra le due piastre non supera la capacità isolante del mezzo. L'ho spiegato poco fa. Quindi che cosa succede? Che tra le due piastre si crea un campo elettrico E con linee di forza diritte. Ovviamente se mi avvicino verso i bordi queste linee di forza non saranno più dritte ma saranno deformate. Quindi per semplicità viene sempre considerato un condensatore piano infinito in modo che i bordi siano lontani, perché all'interno del condensatore lontano dai bordi il campo è perfettamente piano. Quando ci si avvicina ai bordi il campo elettrico non è più piano. Quindi per semplificare il tutto consideriamo queste piastre infinite e questo il campo elettrico all'interno, con queste linee di forza ben dritte e perpendicolari ai due piani del condensatore. Ora, questo è il campo elettrico, delta v fratto d. Questo valore ci dà il valore del campo elettrico tra le due piastre. Il campo elettrico equivale a differenza di potenziale fratto la distanza. Si definisce capacità di un condensatore la quantità di carica massima che un dato condensatore può accumulare e si calcola facendo carica fratto delta v, ovvero capacità del condensatore equivale a quantità di carica accumulata tra le due piastre fratto differenza di potenziale e questo mi dà la capacità del condensatore. Quindi la capacità di un condensatore si misura in farad. Un farad equivale a un column fratto un volt e si misura con la seguente equazione c uguale a s fratto 4πk0 per d, dove c è la capacità del condensatore misurata in farad, s è la superficie delle due piastre, d la distanza tra le due piastre, k con 0, la costante elettrica del vuoto, 9 per 10 alla nonna newton per metro quadro fratto colmo un quadro e poi per 4π. Quindi, che cosa succede quando la carica accumulata supera la capacità di un condensatore? L'ho detto prima, abbiamo lo scarico. Qui abbiamo due condensatori che superano la capacità di carica e ovviamente si crea l'arco elettrico, quindi il passaggio di elettroni che passa attraverso il vuoto circostante. Poi dipende se tra i condensatori c'è il vuoto, c'è aria, in particolare anche l'aria ha una sua costante di elettrica un po' diversa rispetto a quella del vuoto. E ovviamente abbiamo qui l'arco elettrico che fa passare gli elettroni, quindi c'è lo scarico del condensatore, qui ovviamente è stato messo a sicurezza a terra e lo scarico avviene in sicurezza. Esercitazione. Calcolare la capacità di un condensatore piano, le cui armature quadrate hanno di lato 20 cm e sono poste a una distanza di 3 mm. È possibile utilizzare la regola appena spiegata per calcolare la capacità di questo condensatore, quindi c equivale a s fratto 4πk con 0 per d. Andando a sostituire i valori trovo che, visto che le piastre sono un quadrato di 20 cm, posso fare 0,2 che sono i 20 cm espresso in metri e le vado al quadrato, perché l'area di un quadrato è lato per lato. Ovviamente anche l'unità di misura metro diventa al quadrato, fratto 4π per k con 0, 9 per 10 alla 9, newto per metro al quadrato fratto con un quadro, per ovviamente la distanza di 3 mm espressa in metri, quindi 0,03. Andando a svolgere questa funzione trovo che la mia capacità è di 1,18 per 10 alla meno 11 farad. Questa è la capacità del condensatore, che può anche essere espressa come 11,8 pico farad. Andiamo avanti e vediamo quali altri condensatori esistono. Abbiamo il condensatore sferico, come detto prima, è una sfera cava che contiene una sfera più piccola all'interno e la differenza potenziale si genera tra lo spazio interno che separa queste due sfere. Qui la formula è diversa, la capacità si misura a 4π ε con 0, che sarebbe una costante elettrica di questo vuoto, che moltiplica il prodotto di due raggi fratto la differenza tra il raggio maggiore e il raggio minore. E il campo elettrico si misura in Q, ovvero carica accumulata fratto 4π ε con 0 per r quadro, mentre la differenza potenziale equivale a Q fratto 4π ε con 0 che moltiplica 1 fratto r1 meno 1 fratto r2. E qui ovviamente r1 e r2 sono il raggio della sfera interna e il raggio che separa il centro della sfera interna con la superficie interna del condensatore. Come vedete in queste formule, r3, ovvero il centro della sfera interna con la superficie esterna della sfera, non compare in nessuna formula. ε con 0 è la costante elettrica del vuoto nel caso di un condensatore sferico. Andiamo a vedere i condensatori cilindrici, anche in questo caso i condensatori sono concentrici, un cilindro esterno cavo contiene un cilindro interno pieno, sono separati da uno spazio vuoto in cui si genera il campo elettrico e la differenza di potenziale. Il campo elettrico è, in questo caso equivale a Q carica accumulata fratto 2π per L, L è la lunghezza del condensatore, per ε con 0, mentre C equivale sempre a Q fratto ΔV, quindi a 2πL per ε0, che divide il logaritmo naturale del rapporto tra raggio maggiore e raggio minore. Ancora ΔV equivale a Q fratto 2πL per ε0, L vi ricordo è sempre la lunghezza del condensatore, quindi l'altezza del cilindro, che moltiplica il logaritmo naturale del rapporto tra R2 fratto R1. Dove li troviamo questi condensatori cilindrici? Li troviamo qui ad esempio nei circuiti stampati, questi sono dei piccoli condensatori cilindrici. Parliamo adesso dell'energia immagazzinata da un condensatore. Per caricare un condensatore si deve compiere un lavoro contro le forze del campo elettrico che tengono a respingere nuove cariche, ed è uguale a il lavoro, quindi equivale a un mezzo che moltiplica la carica al quadrato che si accumula sull'armatura del condensatore fratto la capacità stessa del condensatore espressa in farad. Ricordiamoci che la differenza potenziale è carica fratto capacità e quindi la carica equivale a capacità per differenza potenziale. Allora possiamo dire che il lavoro è un mezzo Q per ΔV, ma è anche uguale a un mezzo C per ΔV al quadrato. Quindi abbiamo queste due formule per calcolare il lavoro. Fintanto che si carica, un'armatura accumula l'energia potenziale, così come fa una molla quando si carica. Una volta rilasciata questa energia, può compiere un dato lavoro che può essere utilizzato nei vari dispositivi elettronici. Qui vediamo alcune applicazioni, ad esempio invece di scaricare un condensatore lo posso mantenere carico affinché il campo elettrico che genera possa accelerare delle particelle e posso utilizzare questa tecnologia per costruire acceleratori di particelle. Per esempio questo è l'acceleratore di particelle del CERN che accelera protoni ed elettroni fino a velocità prossima a quella della luce, per farli scontrare e vedere cosa esce fuori. Poi ancora, un accumulatore semplice semplice potrebbe essere quello del flash di una fotocamera. L'accumula molta energia e poi la rilascia sotto forma di un flash quando si scarica. E poi ancora, i condensatori vengono utilizzati moltissimo nei sistemi di sicurezza delle centrali elettriche. Potete trovare il seguito di questa lezione e le altre lezioni del mio corso della fisica facile sulla piattaforma www.mondotutorial.it Grazie